Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, bentrovati come state? spero davvero molto bene siamo a venerdì pomeriggio e mi avanza un po' di tempo e volevo registrare un video trigger di quelli belli rilassanti che fanno dormire ma prima di iniziare volevo innanzitutto ringraziarvi per il bel grande traguardo che abbiamo raggiunto qui su youtube ossia quello dei 60.000 iscritti per me è un onore ed è un grandissimo grandissimo immenso traguardo come sapete qua io non posto solo video lunghi ma ho integrato anche gli short così come sull'altra piattaforma visto che youtube si espande un po' a vari tipi di formati ho deciso di adeguarmici anche io e quindi portando vari formati questo fassi inevitabilmente quando i video vanno bene che comunque io abbia più visibilità e quindi questa crescita sta divenendo costante e sono veramente lieta aggiungo anche che ringrazio tutti gli abbonati del canale e a tanti di voi che mi chiedono come potermi supportare in maniera gratuita vi rispondo dicendo ragazzi che lo potete fare condividendo i miei video iscrivendovi al canale lasciandomi un like commentando queste sono forme gratuite per poter sostenere il canale oltre che se vi va ovviamente abbonarvi ma se proprio ci tenete a sostenermi in maniera gratuita sappiate che lo potete fare anche con un metodo facilissimo ossia quello di non schippare le pubblicità a inizio video questo sarà un modo da parte vostra completamente gratuito perché in tanti me lo chiedete per potermi supportare e sostenere perché sapete che youtube dà la possibilità di monetizzare proprio attraverso gli annunci tali annunci ci consentono appunto il progredire qua sulla piattaforma per portare sempre nuovi video quindi se vi va di supportarmi sapete che anche gratis anche gratuitamente lo potrete fare non schippando le pubblicità a inizio video adesso però ho deciso di farvi un video proprio per dormire voi direte vabbè gli altri che cosa servono? giusto servono anche a quello però oggi ascolteremo un po' di trigger vedremo un po' di trigger che veramente a me mandano al sonno un po' di rilassamento ragazzi grazie 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 la luce mi metteva troppo buia quindi ho cambiato un po' la luce cambia di luce e quindi no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no poi passiamo ad un visual trigger che io amo molto che è quello della pinza no, no no, no no, no, no no, 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 no toto toto ok tanti di voi in live impazziscono per questo trigger il suo trigger il suono delle farfalle, così chiamato il finger flutter perché ricorda questo battito d'ali morito rilassante poi 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 passiamo al suono dell'acqua nel caso specifico del cielo il cielo il cielo il cielo il cielo è il cielo il cielo il cielo è il cielo il cielo il cielo il cielo è il cielo il cielo il cielo è il cielo il cielo è il cielo il cielo è il cielo è il cielo il cielo è il cielo il cielo è il cielo è il cielo il cielo è 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 è è il cielo è il cielo è il cielo è il cielo è il cielo